Ehi, ma dove sono? Sì, caro, puntiamo noi. Ma sì, vediamo. Questo posto era occupato. Si può sapere quando è che binggira di suonare? Ehi, c'è un impi che mi sfracella i coglioni. Lo sai, fratello, ora lo schiava. Dai, forza, tocca a voi adesso. Volete mandare a puttana il contratto? Guarda, che ci faccio con questa? È una chitarra basca. Ehi, Sid, quello laggiù è Dick Dent. Dov'è questo? Che sarebbe sto Dick Dent? Chi è? È un giornalista tutto spastico che non gli piacciono i Sex Pistols. Cosa aspetti? Dai, Sid, li massacralo! È un battuto! Basta, Sid, che cominciamo appena, sei pronto! Comincio pure! Chi è? 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 Grazie per la visione! Grazie per la visione!